Oggi siamo qui convocati dall'amore di Francesco e di Bianca. Tanti di noi si conoscono per la prima volta, proprio grazie al loro amore. Celebrare un matrimonio non è soltanto festa loro, ma è festa per ciascuno di noi. Io accolgo te, io ti faccio spazio nella mia vita, quella è la misura dell'amore, il saper fare spazio. Io Francesco accolgo te Bianca Maria come mia sposa. Io Bianca Maria accolgo te Francesco come mio sposo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.